ciao a tutti si riparte con nuovi video nel 2023 dopo la serie dedicata allo d'alpinismo oggi ci troviamo al bivacco di cimon di bolentina un bellissimo posto in mezzo alle montagne e la neve che ho scoperto oggi purtroppo per via della neve ho dovuto rinunciare alla cima però l'escursione è stata comunque molto bella buona visione a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.